Ma credo chiaramente che chi ha vissuto questa partita nella femminile in Italia non credo che sia successo, che sono venute 1.500 persone, 2.000 persone, 1.500 saranno. Però devo fare i complimenti al Salerno che comunque, vivendo questa realtà, ma anche per noi, è nuova perché anche noi non abbiamo mai giocato davanti a 1.500 persone. Il fatto è che alla fine, come al Salerno secondo me, due o tre situazioni perché errori c'erano da parte del Salerno e da parte nostra. I portieri, devo anche ammettere o dire che la Monica ha fatto una gran partita al primo tempo, anche nel secondo, ma è quasi sola perché abbiamo perso la Pernthaler e la Fischnaller ancora giovane. E dall'altra parte c'è il Salerno che ha due portieri, bravi, con meno pressione e con anche una varietà di parare, sì, una variazione di parare. Però devo fare i complimenti alle mie ammazzone, si dice, perché loro non si arrendono, loro combattono fino alla fine, si aiutano, c'è un bel gruppo e adesso però questa è solamente gara 2. Noi abbiamo fame, abbiamo tanta fame e adesso arriva gara 3. Però dirò alle mie ragazze le emozioni bene fino a un certo punto, però il bello arriva ancora. Esatto, e soprattutto come si prepara gara 3? È molto difficile, adesso chiaramente già oggi farò l'analisi di questa partita, anche sicuramente l'Avram, hai solo un allenamento e devi vedere come cambiare su certe situazioni sia difesa sia attacco. Però non credo che, noi abbiamo fatto oggi, abbiamo cambiato tanto in difesa, ma non credo che puoi cambiare la partita. Tutto l'anno avevi le ragazze, anche perché sono due squadre che si conoscono benissimo. Bravo. La decisione, diciamo, l'ultima pala, l'ultimo tiro non è questo. Noi abbiamo sbagliato troppo sotto la porta. Diciamo che avremmo avuto bisogno di tiri davvero a finale che lo trasmetterò domani alle ragazze. Servono tiri veri. Allora questo penso che ha fatto la differenza, perché le difese sono state strette, ci sono stati dei sbagli, ma i tiri dai 6 metri, dai 9 metri devono essere più veri. Come preparerai la terza e decisiva gara di Bella, che si giocherà ancora qui a Bressanone? Ma nella stessa maniera anche qui abbiamo preparato pure questa. Le ragazze sapevano cosa dovevano fare e purtroppo ci sono stati... Siamo arrivati al tiro, ma abbiamo colpito il portiere e l'abbiamo tirati fuori. Un po' più pazienza, un po' più ragione davanti alla costruzione d'attacco e magari qualche gestione in più sulla seconda fase. Il fatto di giocare a Bressanone gara 3 con un pubblico fantastico, con quello che abbiamo visto oggi, potrebbe far pendere un po' la bilancia dalla parte del Brixen? Certo, questo sì, perché stasera veramente la palestra è piena, fa molto caldo. La gente attiva, davvero complimenti al pubblico del Brixen, la gente attiva, hanno gridato tutto il tempo, hanno creato un'atmosfera davvero per una finale. Sono felice di aver vissuto un'atmosfera del genere.